... Intanto Pimon nel salto in lungo, l'americano, deve aver compiuto una notevole misura perché la pedana che è lontana da noi e però è di fronte ai popolari non è visibile ma comunque... 8,90 nel salto in lungo, è una cosa favolosa, 8,90 nel salto in lungo Pimon, 8,90 nel salto in lungo, primato del mondo, primato precedente, Ralph Boston